Per me, I'm the lucky one And I am! I am! I am! The lucky one! And I am! I am! I am! Per me, I'm the lucky one And I can be beyond I'll show some me, I'm the lucky one Rariosuke Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questo nuovo gameplay di Amnesia The Dark Descent Abduction La custom story più lunga che io abbia mai visto Qui col vostro vale 93 ba e un buio pazzesco Allora, seguiamo il mestolo C'è nessuno qui Dunque Non capisco Ok, tutto a posto? Perfetto Dicevo, non capisco che cosa devo fare C'è qualcosa di molto molto strano qui Perché Ho controllato tutte le stanze Però Mi manca qualcosa Non è che ho dimenticato di prendere qualcosa da qui? No, sembra di no Barili Quello non si può neanche muovere quindi Non lo so Non lo so E non lo so C'è qualcosa che mi sono perso Ok Qui posso metterci qualcosa Aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Voglio provare una cosa So che So che di sicuro Ok, buttiamolo qua Chiudiamoci Perché Non si sa mai Ricordatevelo E Ecco Quindi se io dovessi Quindi se io dovessi metterlo No Qua dentro Non Non credo Dove diavolo Dove diavolo? Oh 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 sì Oh sì Oh sì Ehm Quindi Lago cavo non mi serviva Alla fine Nessun oggetto da usare Siamo sicuri? Dove lo metto quindi il sangue? Ecco dove Gira Gira Cazzo Gira E gira tutto intorno alla stanza Mentre si da Gira Of blood Ok I now have the blood I need For the ritual Now I need to find the mercury And the bromine Sì Ehm Sì Sì E il mercurio e il bromino Bromino Come diavolo si chiama lui? Dove li trovo? Hm Sto coso qui? Possibile che devo mettere qualcosa qui? Sì che devo E Qua dentro invece? Oh cazzo Ho buttato Aspetta Devo mettere qualcosa qui? Che cosa ci devo mettere? Ti va bene se ti metto un secchio di legno? Non posso usare l'oggetto E non posso nemmeno riprendermi il sangue Quindi deduco che Mi manca qualcosa Cosa? Non ne ho idea Oh Va bene Va bene Va bene Allora Pensa vale Pensa Oh Qui C'è qualcosa che ho Ho dimenticato? Hm? Fatevi avanti Pezzi di bromino e mercurio Che non ho No Ma c'è tutto Pezzi di signore faccia No Qui Immaginavo ci fosse qualcosa Invece no Ok Sta diventando molto più difficile Di quanto io avessi mai immaginato Oh Sì Magari qui? No Aspetta Si parlava di miniere Dove sono le miniere? Non ci sono miniere No Qui non ci sono Magari lo trovo da qualche altra parte Allora Questa è l'unica porta che posso utilizzare Quindi Allora C'era Questa qua Che non si apre Quindi l'unica cosa che posso fare è vedere se sta qui Qualche porta Qualche cosa Chemical storage It's locked And will not open without a key Ma io ce l'ho il key Oh sì che ce l'ho Benissimo Stiamo facendo progressi ragazzi Vi rendete conto? No Che me lo me Potete rendere conto Così come Oddio Un lag pazzesco Un lag pazzesco Adesso va meglio Allora Oh mio dio Stiamo anche finendo l'olio Il che è un brutto 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 pesaggio Che c'è qui Salve Uh Altro olio Sì Grandissimo Sì Ma tutto benone Tutto benone Ragazzi Qui nulla E Leggiamo questa nota Spiders So many spiders Così tanti anni The mine is crawling with them I'm not going in there I don't like spiders Nope Not one bit They can have it I don't care I have what I need From the mine anyway I just hope I don't run out of the mercury The little bastards Are resilient too No matter how many times I threw a massive rock on them They just kept going They certainly Certainly Aren't anything Like the spiders From my former reel Spiders actually Died When you crush them Oh how I miss My fourth reward I hope I will sit again someday Quindi ci sono dei ranni Particolarmente Ehm Come vogliamo definirli Resistenti Tinderbox C'è nulla Vuoi una chiave No Prima la tinderbox Che è più importante Nonostante io Da notare che le tinderbox Non le uso quasi mai Oh Chiave delle miniere Grandissimo Ok Andiamo un po' In questa porta Il corridoio oscuro Uh Che cazzo Ehm Oh mio Oh mio dio Perché mi fissi? Io non mi fido di te Come direbbe il buon vecchio PewDiePie Oh no Oh 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 Che cazzo sta succedendo? Ancora tu? Vaffanculo Stronzo Che non sei altro No No Cos'è un incubo? No No Non ti tocco più la testa Ma fammi uscire Ti prego Voglio solamente Voglio solamente Andarmene di Di ciao al mio amico Via No 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 Come si esce? Aiuto Ah ce l'ho fatta Oh Che bello Questa luce rossa Veramente meraviglia Signor faccia No Quanti sono Oh mio dio Oh mio dio Daniel è diventato pazzo Daniel è diventato pazzo Daniel è diventato pazzo Aiuto Aiutatemi Oh eh Un altro corridoio Che c'è qua? Assolutamente nulla Oh Cazzo Aiuto Oh eh Ho trovato Bromine Yeah I now have the blood and the bromine All that is left is the mercury Bene Quindi Quindi Non mi resta che trovare la La miniera Dato che ho anche la chiave Qua che c'è? Nulla Ok Immagino sia da queste parti E immagino ci siano anche un sacco di mostri Che cazzo Oh ecco è entrata delle miniere Oh barili giganti A large vado Of a no chemical Best if I leave it alone Ok Meglio se li lascio stare Fantastico Sono anche d'accordo Perché dire di no It's locked Non per me Non è bloccata per me Caro mio Ok Adentriamoci nelle miniere Con I ragni giganti Schifosi Che Non li può uccidere nemmeno Gesù Sto scherzando Probabilmente lui può Super buio Super Super buio Buonasera Che cavolo è questo suono Che cavolo Ma non li vedo Questi ragni Schifosi Li voglio vedere Tra l'altro Si Luce Oh si Ecco come No Dove sono Ah basta Basta Uccidermi Brutti ragniacci invisibili Ah che cosa sto cercando Io non lo so Oh mio dio Oh Aiutate Aiuto Aiaiaiaiaiai Cosa sto cercando Non ho più La minima idea Vai a tenere Agniaccio Invisibile Aia Cazzo Mi sta lentamente Uccidendo E questa è la fine Che farò Eh Daniel Ecco Mi sa che sia proprio questa Va bene, ho capito Uccidimi allora No, scherzavo Non uccidermi, ti prego Ah, ah, ahiaiaia Sto tornando indietro? Sì Che cosa devo fare? Hm? Va bene, basta Schifosi Vabbè ragazzi Io Credo che inizio a perdere l'orientamento Adesso Qui c'è qualcosa? Assolutamente no Roccia, aiutami No, non può Ma come diavolo faccio ad andarmene? Eh? Vabbè Non so che dirvi Boh Diciamo che Prima o poi Riuscirò a trovare la chiave Per questo enigma Per questo Labyrintho Schifoso Quindi Oh Fantastico Non posso salire Non posso? Oh mio dio Noi ci vediamo al prossimo gameplay Mettete mi piace Commentate Quindi un ciao Dal vostro Vario 93 Ciao Ciao Ciao